o la gamers benvenuti in un nuovo video questo è un video rifatto sì perché l'altro non so perché non andava però vabbè scusate scusa io devo editare quindi abbandono ok possiamo cominciare ovviamente e speriamo che stavolta non si perda la registrazione perché prima non so tipo si era un loop tipo sì mi vedete da un'angolazione diversa perché scusate se non parlo tanto nei miei video da solo ma perché non so non riesco a parlare tanto no 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 no